Siamo con il Presidente della Fondazione Inarcassa, la Cassa degli Ingegneri e degli Architetti. Siamo qui perché Inarcassa ha lanciato, proprio a ridosso della scadenza elettorale, un manifesto, una serie di punti da sottoporre al prossimo governo per aiutare tutto il settore dei lavoratori autonomi, architetti e ingegneri, un settore che in questo periodo ha visto una forte contrazione anche degli introiti privati. In cosa consiste questo manifesto? Ovviamente noi ci rivolgiamo non soltanto ai governanti ma alla politica in generale perché tutti coloro che siederanno nel prossimo Parlamento potranno in qualche modo sostenere gli interessi di questa nazione anche attraverso il sostegno agli ingegneri e architetti che in questa nazione svolgono dei ruoli assolutamente prioritari e importanti. Il primo punto è quello di invitare i nostri governanti a mettere in campo un concreto piano di investimenti per la nostra nazione. Un piano di investimenti che veda al primo punto la messa in sicurezza dal punto di vista sismico del nostro Paese e la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e quindi dei rischi geologici e del territorio in generale. La nostra ambizione è quella di arrivare a dire non più morti dopo un terremoto, quindi puntare molto sulla prevenzione e non sulla ricostruzione. Ormai la letteratura in materia ci insegna che i costi per la ricostruzione sono esageratamente più alti di quelli che servirebbero per mettere in sicurezza invece il nostro patrimonio, pensando a Monte. E quindi il nostro invito è di farlo al più presto, quindi di investire affinché tutto il patrimonio edilizio italiano possa essere messo in sicurezza. E secondo voi le forze politiche rispetto a questo tema finora come hanno risposto? Sicuramente, come dire, ultimamente un passaggio è stato estremamente importante che è l'introduzione del sisma bonus e sicuramente su questo tema noi ingegneri, architetti, liberi professionisti, ma in generale tutti i professionisti italiani si metteranno in campo per non solo far conoscere ma anche spingere l'utilizzo di questo incentivo. Invece gli altri due punti riguardano, uno, la non sovrapposizione tra lavoro pubblico diciamo così e lavoro privato e l'altro, anche molto importante, riguarda i giovani. Se appunto ci può più illustrare più dettagliatamente questi due. Sicuramente gli altri temi, uno importantissimo che riguarda tutte le professioni è l'ecocompenso. Ormai le professioni, le libere professioni, sono state totalmente svilite da prezzi che sono assolutamente non in linea con quella che è l'attività che viene svolta. Siamo in balia del totale libero mercato con numeri di professionisti in campo esagerati per cui ovviamente su questo tema bisogna intervenire. Il governo è intervenuto, quindi si è fatta una norma sull'ecocompenso che sicuramente è un primo passo per una corretta regolamentazione di questo tema estremamente importante ma ora bisogna che questa norma che ha dettato i principi fondamentali venga declinata nel modo migliore per tutte le professioni. Accanto a questo però chiediamo che vi sia una norma che sancisca in modo chiaro l'incompatibilità tra il lavoro dipendente e l'attività libero professionale su tematiche inerenti, l'attività che il dipendente svolge nella pubblica amministrazione. Quindi evitare conflitti di interesse che sono estremamente delicati e possiamo immaginare anche che cosa potrebbero comportare. E invece brevemente l'ultimo passaggio sulla possibilità per i giovani di partecipare ai progetti. Sicuramente un altro tema è quello di rimetter mano, ma questi sono tutti d'accordo, rimetter mano al codice dei contratti con particolare attenzione. Ovviamente in questo momento noi tocchiamo un tema specifico e unico che è quello dei concorsi di progettazione che noi come Fondazione Inarcassa, ma anche il Consiglio Nazionale degli Architetti sta spingendo moltissimo in questa stessa direzione, vorremmo favorire. Concorsi di progettazione dove il processo si svolge in due fasi. Una prima fase dove il professionista non ha necessità di esporre grandi requisiti e quindi la possibilità di consentire soprattutto ai giovani di poter presentare le loro idee e quindi attraverso questa prima fase che non richiede requisiti sicuramente ci sarà molta più concorrenza, ma soprattutto si consentirà ai giovani di poter emergere e di poter presentare idee magari innovative che nell'attuale regolamentazione risulta un po' soffocata.